Ciao a tutti, sono a mezzo al traffico, sono volo, non mi ammazzano, non mi ammazzate. Oggi siamo in missione sale, del sale, stiamo aspettando un carico ingente di sale, 40 sacchi di sale, e allora il fatto è questo, carichiamo il sale, carico il sale, abbiamo 20 sacchi da 40 kg, sale deionizzato, di media qualità, dopodiché cosa faccio? Compro sale, anticipo i soldi di sale, e ci faccio un pesce secco, dopodiché il sale anticipato, me lo ripagono con un pesce secco, e poi vado a rivendere un pesce secco, e il pesce secco, aiu, aiu, finché non sono genza, io cado, e non sono genza.